e col destro che gollo col 8 che gollo col destro che gollo buonasera e benvenuti al torneo 7k arrivato alla quinta giornata quest'oggi ad affrontarsi saranno AK e KTM partita molto interessante ecco le squadre a schierarsi a centrocampo la mia sinistra il KTM alla mia destra invece Giacchè il solito saluto squadre che soprattutto i KTM vengono da una bella vittoria andremo a seguire ora il tocco per la palla del campo arbitra Carmine tutto chiaro giusto per ricapitolare rimessa laterale va battuta con i piedi pallone fermo sulla linea o dietro alla linea il fondo lo batte solo il portiere con le mani per il resto è calcio scelga lei palla porta porta di bocca al numero ragazzi e dopo la scelta per il campo e la palla ci apprestiamo a seguire il match il tempo tra KKTM gara appena iniziata risultata ancora sulla 0-0 ricordiamo partita valida per la quinta giornata del torneo 7 Cup ma dopo ragazzi ora seguiremo tutto il primo tempo grazie a tutti Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.